Torna a gioire a distanza di una settimana dalla sconfitta maturata nel derby da uno contro il Foggia, l'audace cerignola di Mr. Feola che supera in rimonta nel finale un ottimo Nardò in un match valevole per la sesta giornata di ritorno del girone H di Serie D. Al Monterisi termina 2-1 a favore dei padroni di casa che salgono a quota 43, consolidano la quarta posizione e interrompono la striscia di 10 risultati utili consecutivi dei nerretini, adesso sest'ultimi in solitaria quota 25, inizio vibrante degli ospiti che al minuto 23 passano in vantaggio, percussione di mengoli in area avversaria, intervento falloso e calcio di rigore, sul dischetto si presenta Calemme che prima si fa ipnotizzare da cappa e poi ribatte in rete a porta sguarnita, la reazione ofantina è vehemente, al minuto 30 il Sansone ad avere sul destro la chance del pareggio ma il suo tiro cross viene respinto a qualche centimetro dalla linea di porta, a inizio ripresa va molto meglio a Longo che al minuto 48 si fa trovare ben appostato al centro dell'area e spedisce in rete un ottimo traversone di Russo dalla destra e il gol dell'1-1 che accende le speranze dei gialloblu che al minuto 63 hanno la possibilità di ribaltarla con Martinello, il cui tapin da pochi metri saurisce la sua corsa sul fondo, quando la partita pare ormai essere i titoli di coda, ecco arrivare lo spunto decisivo, al minuto 89 Coletti in venta, Russo si inserisce bene e calcia, Martinello si ritrova lì e deposita a porta sguarnita e l'acuto che vale tre punti, l'atto conclusivo di una contesa dalle mille emozioni festeggia l'audace recrimine il Nardò, ma per entrambe le sensazioni in vista del futuro non possono che essere incoraggianti.